Il primo sponsor che premiamo è la concessionaria Autopia di Campobasso, c'è Giannunzio Magnifico in sala, che prego di venire qui, questo giovane imprenditore, veramente giovane, gioca ancora a pallone in porta. Scusami Giannunzio, ci volete il coraggio? Figuriamoci come giovane. Giannunzio Magnifico di Autopia, fra i premiati di Telemolisse nel cuore, un'azienda ormai da quanti anni sul mercato? No, sono solo sette, sembrano infiniti, ma sono solo sette. Sono solo, nel senso, un periodo relativamente breve, dici tu? Sì, sì, insomma, siamo nati sette anni fa, però con tanto entusiasmo, sembra sempre ieri. Difatti, quando vengo con Antonio, ti vedo sempre circondato da collaboratori, da clienti, sempre in fibrillazione, insomma, sempre pronto a dare il consiglio giusto. Sì, è un lavoro che mi piace, mi appassiona, quindi cerco, facendo contento il cliente, faccio contento me stesso, veramente. Va bene, allora, pronto per ricevere questo premio? L'abbiamo svelato, però ancora non lo sanno ancora tutti e speriamo anche che l'economia, in generale, molisana, perché forse è quella anche un po' più sofferente, si possa riavere uno scatto. Sì, sì, è un augurio per tutta l'economia molisana, per tutte le imprese, per tutti i negozi, per qualsiasi attività commerciale. Grazie Giannunzio, è in bocca al lupo. Secondo sponsor che vogliamo premiare, ne premiamo tre, anche questo è un imprenditore molto giovane, davvero vulcanico, perché è veramente vulcanico, io lo conosco, ma insomma molti di voi vanno tutte le settimane, insomma spesso alla AgriPet. Quindi Massimo Maio, eccolo qui, che è un'azienda cresciuta veramente in maniera esponenziale. Buonasera Massimo. Massimo Maio, imprenditore giovane e valido, noi ti definiamo sempre così perché è la verità. Grazie per definirmi sempre giovane. Se le molisse nel cuore il richiamo è forte. Sì, finalmente dopo un anno di stop siamo tornati qui a passare una serata tutti quanti insieme e quindi condividere quelli che sono i risultati ottenuti a 360 gradi. Anche per un messaggio di positività, voglio dire, a tutto l'ambiente, per uscire definitivamente da un anno che è stato complesso, diciamocela tutta, solo con il vaccino. Sì, però partiamo anche dal presupposto che dobbiamo uscire dando positività a noi stessi e quindi credere in un futuro diverso e quindi guardare avanti, cosa che in questi anni molti purtroppo non hanno fatto. Quindi con il buon augurio di guardare avanti dobbiamo augurarci che tutto possa risolversi e riprendere tutto alla nostra normalità. Noi cerchiamo sempre di beccare i molissani che si sono imposti nelle varie parti d'Italia, d'Europa e del mondo. A volte uno accende la tv e dice quello è il primario, eccetera, eccetera, il chirurgo, magari non lo sa nessuno in Molise, però fuori valgono tantissimo questi personaggi. Sicuramente noi viviamo in una piccola regione dove abbiamo tante eccellenze, le eccellenze le abbiamo proprio qui all'interno della nostra regione, ma soprattutto come appena detto all'esterno, perché a volte sentiamo proprio all'esterno stesso parlare il Molise esiste finalmente, perché abbiamo eccellenze che possono essere dal campo medicinale, quindi come avete appena detto medici importanti, ma anche nel campo agroalimentare, perché non ci dimentichiamo che abbiamo uno dei nostri valori fondamentali che è l'agricoltura e quindi tante altre risorse che nel nostro territorio sono valorizzate, che sono eccellenze a livello mondiale, esempio eclatante che noi abbiamo oggi, la nostra perla, la pasta molisana che è un'eccellenza oramai a livello molisano. A premiare chiamo un altro sponsor di Telemolise, Luca Marzitelli, che ci raggiunge, eccolo qui Luca. Veramente avremo anche qualche momento in cui sarà difficile veramente trattenere le emozioni, però fino a due anni fa è venuto sempre il papà Antonio, che adesso purtroppo non c'è più e quindi Luca ha voluto comunque essere insieme a noi nel ricordo di suo papà Antonio, ma più in generale come facente parte della famiglia di Telemolise allargata. Con due imprenditori molisani, Gianfranco Galati e Luca Marzitelli. Allora Gianfranco, però tu sei in pensione? Quasi, quasi in pensione. Ci stiamo avvicinando alla pensione, manca qualche mese, ma comunque continuiamo ad essere attivi anche in azienda. Bene, questo è l'importante. Dopo un anno di, non dico di stop, noi non abbiamo potuto fare Telemolise nel cuore, c'era voglia di tornare a vederci? Sicuramente, sicuramente questa voglia, anche se dalle notizie ormai dei numeri Covid dobbiamo ancora un po' tenerci in disparte perché il problema si sta rievocando un'altra volta, al problema dei morti e delle infezioni e dei contagi. Quindi comunque sia la voglia di rivederci ci sta, ma dobbiamo stare attenti. Luca Marzitelli, Telemolise nel cuore è un fatto proprio di, sarò ripetitivo per voi, di cuore. Hai ragione, hai ragione Gianni, sì, anche perché sei bene che papà è venuto a mancare e quindi ci teneva tantissimo a essere presente a questa trasmissione e quindi veramente con il civitù nel cuore, nel cuore davvero. Grazie anche a Telemolise. Grandissimo spettatore dei nostri programmi. È vero, è vero, è grandissimo spettatore e l'importante è che ci rimanga quello che ci ha insegnato a livello di vita e professionale. Ricordiamo sempre con affetto Don Antonio Marzitelli e l'eredità di affetti, come dicevi tu, è tanta, è tantissima di lavoro e di affetti. Sì, è vero, è tantissima e ce l'ha lasciato anche vivendo questa nuova attività che sta andando per fortuna abbastanza bene e stiamo portando avanti io con mio fratello Michele e mio nipote Antonio e tutti i ragazzi che collaborano con noi, che in questo momento stanno lavorando e ci guarderanno. Grazie, grazie a Massimo Maio, grazie a te e grazie a Luca Marzitelli. La terza azienda, lo sponsor che vogliamo premiare è un'azienda storica di Campobasso del Molise, del centro-sud, esattamente Tripisonno, biliardi e giochi. C'è qui Massimo Tripisonno che ha preso il testimone dal papà Francesco che tanti anni fa, quando si parla di biliardi, biliardini, flipper, giochi elettronici, vieni al fianco di Erika, si parla soltanto di Tripisonno, biliardi e giochi. C'è questo ragazzo, Francesco ha quattro figli. Tu, Massimo, sei l'unico che ha continuato l'attività di papà. L'unico figlio che ha continuato la sua attività. Massimo Tripisonno, della ditta Tripisonno, biliardi e giochi, quest'anno una delle aziende premiate al Gran Galà di Telemolise nel cuore. Sicuramente un motivo di soddisfazione per la tua azienda e per te in particolare. Sì, sì, veramente sono stato orgoglioso di essere invitato a questo evento, a questo Galà di Telemolise e quando mi è stato comunicato che saremmo stati una delle aziende premiate è veramente stato un orgoglio, dove ho trovato in un emittente locale di Telemolise come azienda un'ambiente familiare, sono anni che ci conosciamo e ho trovato veramente anche convenienze economiche, dove ho trovato anche un riscontro nel fare da sponsor la trasmissione specifica poi dello sport di Antonio Di Lallo. Ecco, dopo l'anno del lockdown, del Covid, possiamo chiedere anche a te che sei un imprenditore molisano, si sta registrando che cosa a livello, qual è il polso della situazione a livello economico? Allora, come azienda noi e i nostri clienti sono maggior parte degli esistenti pubblici che sono stati chiusi durante il lockdown, quindi il danno economico c'è stato. Adesso con la riapertura da giugno di quest'anno c'è stato un incremento, è stata tutta la ripresa e adesso siamo anche in una buona fase di ripresa economica. Certo c'è ancora da lavorare perché gli effetti del lockdown sono ancora lunghi da smaltire, però c'è una buona ripresa economica e per il nostro settore abbiamo trovato veramente un buon riscontro. Questo premio, questo riconoscimento di Telemolise possa portare il giovamento alla tua azienda in particolare? Ripeto, sono contento, come ho detto prima quando sono stato premiato, otterrò veramente con grande affetto perché vedo che è stato dato e ho ricevuto con grande piacere questo premio. Sì, spero che continui nella fase positiva e posso continuare a fare la mia attività veramente con tutto l'affetto e con tutto il piacere che ho fatto fino adesso. Grazie a Massimo Trevisonno e a Giuseppe Formato.